Tutti i caratteri che non si trovano nella tastiera standard italiana sono dei caratteri speciali, degli esempi possono essere per esempio il simbolo di copyright oppure i caratteri arabi o il simbolo di marchio registrato. Per inserire un carattere speciale ci posizioniamo in un punto in cui noi vogliamo inserire il nostro carattere speciale e dalla barra del menu facciamo inserisci carattere speciale. Esce fuori una finestra in cui noi possiamo scegliere il tipo di fonte da utilizzare per il nostro carattere, in questo caso il Tams New Roman e scegliere il sottinsieme dei caratteri speciali. Vediamo, ne abbiamo diversi, il latino base oppure l'arabo esteso o simboli numerici o disegno casella eccetera. Quindi per esempio se noi vogliamo inserire il nostro carattere di copyright lo andiamo a selezionare, clicchiamo su ok e vediamo che il nostro carattere è stato inserito. Grazie. Grazie.